La mia candidatura nasce innanzitutto da un senso di grande responsabilità nei confronti della comunità che io rappresento. La mia esperienza politica maturata nelle precedenti tornate elettorali mi ha sicuramente lasciato un grande entusiasmo, una grande grinta nella consapevolezza che soltanto attraverso una squadra di giovani e di donne e di persone estremamente motivate si possano veramente mettere in atto iniziative e propositi per costruire la bimona del domani. La nostra lista infatti si chiama proprio così, bimona domani. La forza di questa lista è sicuramente nella freschezza dei giovani che ne fanno parte, nel ritorno di altri candidati che ritornano appunto e che si ripropongono in una nuova avventura elettorale e nella forza di tutti i giovani che ci supportano. Per la prima volta e forse come mai prima da adesso si sente un entusiasmo, una voglia di cambiamento che mi dà una grandissima forza.